Le cifre sono come sempre esorbitanti, l'affluenza di calibro mondiale, il protagonista assoluto naturalmente il tartufo. Tutto questo è la tredicesima asta mondiale del tartufo bianco d'alba in programma per domenica 13 novembre al castello di Grinzanecavur. Dal 1999, anno di esordio ad oggi, l'asta si svolge in collegamento satellitare con una delle più importanti città del mondo. Quest'anno, durante l'asta condotta da Mara Venier, si ripropone il gemellaggio con Hong Kong, già consolidato nella scorsa edizione e gli organizzatori sperano di replicare anche i numeri. L'anno scorso abbiamo avuto due tartufi a 100.000 euro, uno a Hong Kong e uno in Italia. Io spero di raggiungere almeno un risultato di 100.000 euro a Hong Kong. Concedersi una spolverata di questo oro culinario magari su un tipico piatto di tagliolini non è cosa da tutti. Il clima secco dei mesi scorsi, nonostante le piogge disastrose di questi ultimi giorni, hanno fatto impennare i prezzi e le cifre per un tartufo bianco si aggirano intorno ai 300-350 euro. Un prodotto prezioso non solo per il suo valore economico ma anche, dice l'assessore al turismo Alberto Cirio, per il suo ruolo di volano del turismo e no gastronomico in Piemonte. Quest'asta è uno degli eventi mediatici più importanti per la nostra regione perché proietta l'immagine di Alba e del Piemonte per il mondo legato a questo che è un ambasciatore straordinario. Noi dietro al tartufo vendiamo un intero territorio, vendiamo i nostri vini, i nostri salumi, i nostri formaggi, le nostre nocciole e quindi quello è un ambasciatore grande e anche un passepartout che apre le porte della notorietà ad altri prodotti piemontesi che sono altrettanto di qualità elevata anche se magari sono meno noti.